Avvocato, dunque la sua famiglia ha in qualche modo ereditato la villa di Isola e altri beni della Contessa di Castiglione. Ci può spiegare com'è andata? Sì, dunque, la Contessa è morta senza i redi diretti e siccome non aveva buoni rapporti con i suoi parenti più lontani, li ha desideredati tutti, ad eccezione di una famiglia di Genova, che era la famiglia Tribuone. Il mio bisnonno, il Cavaliere Roberto Dallara, era già amministratore dei beni della Contessa quando lei era in vita e quindi alla sua morte ha fatto un'offerta alla famiglia Tribuone che è stata accettata e quindi si è, diciamo così, acquistato i beni, tra cui la villa di Isola, di cui oggi sono fortunatamente proprietaria. E che però avete restaurato con una certa fatica, nel senso che è un bene impegnativo. Sì, è stata un'impresa anche perché poi ci sono state successioni familiari, per cui per consolidare la proprietà c'è stato un certo impegno economico e poi anche per portare a, diciamo così, a compimento i lavori più urgenti, il tetto, la facciata. Ecco, poi adesso nasce l'associazione dedicata, intitolata la Contessa di Castiglione. Come mai? Qual è lo scopo? Ecco, diciamo che era nell'aria. A me il personaggio, proprio per una questione familiare, perché da oltre cent'anni ne sento parlare, nel senso nella mia famiglia c'è una tradizione orale, è un personaggio che ha sempre affascinato e ho avuto la fortuna di incontrare una serie di altre persone che erano ugualmente affascinate dal personaggio e che hanno contribuito nel corso della loro vita con interesse, con contributi di ogni genere, studi, libri, saggi e quant'altro. Quindi è nata questa idea. Perché dubbiamente si tratta di un personaggio importante nella storia dell'Ottocento, non solo Spezzino. Certo, risorgimento. Bene, giovedì l'associazione si presenta, per così dire, con una iniziativa che si svolgerà proprio alla Villa di Isola. Sì, la prima. Che cosa si tratta? La nostra prima iniziativa come associazione, speriamo anche che sia la prima di una lunga serie. Abbiamo la fortuna di avere la presentazione tra le prime nazionali del libro del professor Zecchi, il nuovo libro sul lusso, e che appunto abbiamo scelto come nostro primo biglietto da visita proprio perché il lusso, l'arte, l'amore, la bellezza e la cultura sono tutti temi che erano cari a Virginia Olduini. E mi pare che nel libro sia citata. E nel libro è anche citata, proprio in relazione a questi temi a cui ora ho fatto cenno. Grazie a tutti.